Ciao, sono Martino Occhi, vivo a Vezza d'Oglio in Alta Valle Camonica in provincia di Brescia. Ci troviamo quest'oggi in questa bellissima valle alpina, la famosa Val Grande. Il progetto Alp Experience di cui voglio parlarvi oggi raggruppa le mie tre grandi passioni. Passione per il territorio in cui vivo, passione per la natura e passione per le montagne che mi circondano. Si tratta di un'attività di recettività diffusa, il chalet e baite presenti nel territorio dell'Alta Valle Camonica. Questi edifici sono testimonianze di tempi passati, già presenti ai primi dell'Ottocento quindi all'interno del catastro austriaco e sono un grande valore all'interno della nostra valle. Attraverso il progetto Alp Experience è possibile vivere a stretto contatto con la natura, rallentare i propri ritmi di vita e assaporare quello che la montagna ci offre. Le nostre vallate offrono varie attività in tutte le stagioni, dal periodo invernale con lo sci, le ciaspole ed escursioni con gli sci d'alpinismo, alla primavera con il risveglio della natura, in particolare la fioritura dei rododendri, alle escursioni estive, le vie di roccia e le arrampicate in estate, chiudendosi poi con il periodo intunnale con dei bellissimi colori e del bramito del cervo. Queste realtà sono trasversali, apprezzate non solo da chi vive all'interno del territorio lombardo, ma anche dalle restanti regioni d'Italia. Inoltre è sempre crescente l'interesse di paesi dell'est e del nord Europa. Inoltre è sempre crescente l'interesse di paesi dell'est e del nord Europa.